Noi abbiamo confermato un dato sul quale abbiamo sempre lavorato, che la cooperazione istituzionale è assolutamente fondamentale. Quindi abbiamo dimostrato che quando si riunisce attorno a un tavolo ci sono progetti seri, un metodo di lavoro serio, credibilità, efficacia e entrambe le parti, il Governo nazionale, il Comune di Napoli e la città metropolitana, quindi tre soggetti, hanno mantenuto sinora gli impegni che si erano presi. Stiamo parlando di lavori che sono anche cominciati, quindi su alcuni ne vedremo la realizzazione nel 2017, penso all'igiene urbana nel centro storico, alle metropolitane, alcuni lavori di riqualificazione come il Parco della Marinella e altri sui quali invece sta partendo l'aggiudicazione delle gare. Quindi solo nel patto per Napoli c'è una movimentazione di 162 milioni di euro. Quindi siamo davvero soddisfatti perché abbiamo dimostrato che la cooperazione istituzionale è fondamentale, la dialettica politica fa parte della democrazia e con il Governo, come vedete, riusciamo, anche quando ci sono delle difficoltà, come in questi giorni su altri temi, però a dialogare quando ci sono questioni istituzionali di primaria importanza. Non c'è il rischio che tutte queste opere restino a metà, andranno tutte a buon fine? Anche su questo abbiamo discusso. Le risorse economiche ci sono, il Governo non ha posto limiti di spesa, quindi siamo tutti motivati ad andare molto rapidamente. Vi faccio un esempio, oggi abbiamo ottenuto la rimodulazione di una parte del patto, noi avevamo destinato una piccola quota all'albergo dei poveri, però siccome l'albergo dei poveri l'abbiamo fatto rientrare in un'altra operazione strategica, abbiamo inserito quei soldi nel Parco della Marinella. che quindi ha approvato il bilancio, la settimana tra il 23 e il 30 aprile noi possiamo contrattualizzare e iniziano immediatamente i lavori. Quindi non solo sono cose che si vedranno, sono cose che finiranno e non ci stanno problemi di capienza economico-finanziaria.